Mi è sembrato una cosa veramente bella e significativa e importante associare un evento come i mercatini di Natale con la vaccinazione dei primi bambini nella nostra provincia di Cosenza. Ora sono un po' tutti i guardinchi, però io penso che nei prossimi giorni ci sarà sicuramente l'adesione e la risposta anche dei genitori che sono un po' preoccupati. Penso che vivere il Natale in serenità, anche mettendo al sicuro i propri figli, sia la cosa più bella, il regalo più bello che si possa ricevere e fare. Quindi io invito i genitori e anche i bambini a non avere paura perché è una piccola punturina, non si sente nemmeno. I vaccini sono sicuri, ce lo dicono tutti i giorni dal Ministero della Salute, sono già abbastanza sperimentati nell'adulto. Perché non fare questo? In questo momento in cui il Covid ci ha sconvolto la vita, penso che sia giusto adesso procedere anche alla vaccinazione anti-Covid, anche per i bambini.